Ambrogio Tavorelli è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Como. Il successore di Paolo De Santis è stato eletto questa mattina alla prima votazione al termine della riunione del Consiglio Camerale che si è insediato oggi in Via Parini. Una sola la candidatura espressa, quella di Tavorelli appunto, avanzata dal consigliere Annarita Polacchini e approvata anche dal numero 1 di confartigianato Como, Marco Galimberti, in Lizza fino a qualche giorno fa e che dovrebbe ottenere la vicepresidenza. Classe 1949, già alla guida degli industriali comaschi, il nuovo presidente della Camera di Commercio ha ottenuto 22 voti su 28. Cinque le schede bianche, una la preferenza espressa per Enrico Lironi, rappresentante del settore credito e assicurazioni. Prima della votazione hanno preso la parola alcuni consiglieri. Gloria Paolini, rappresentante delle organizzazioni sindacali, ha invitato a considerare la componente femminile nella costituzione della nuova giunta. Per legge, del resto dovrà esserci almeno una donna. Aspetto ribadito anche da Giovanni Pontigia, rappresentante in Consiglio dei Servizi alle imprese, che nel suo intervento ha anche proposto l'eliminazione dei compensi e l'incompatibilità fra cariche in giunta e nelle partecipate. Pontigia ha inoltre invitato il nuovo presidente della Camera di Commercio, che resterà in carica per i prossimi cinque anni, a non intervenire sullo statuto, modificandolo per ampliare la giunta. Un tema a quest'ultimo molto delicato, anche perché, dopo la scelta del presidente, si giocherà su questo punto la prossima partita politica. I posti disponibili in giunta sono sei e gli interessi molteplici. L'appuntamento con l'elezione è fissato per il prossimo 3 dicembre.